Sissigio favorita, 2.19 al totalizzatore, parte pianissimo su Allen. L'errore di simpatico coffa nel tentativo di andare davanti. Allora Sirio a S, Savelle alle prese e all'imbocco della prima curva. Sirio fa valere la posizione interna al rivale dopo 200 metri in 15. Savelle gradualmente prova a ripiegare in seconda posizione. Sera sotto Spino Sakaffa che però non riesce a sistemarsi in seconda mentre finisce squalificato simpatico coffa. 400 in 31 e 2. Sirio S battistrada nei confronti di Savelle e Spino Sakaffa, poi Sissigio. Per corsie esterne risale su Allen che lascia in coda al gruppo. Simon Ara stoppata, evidente da treno, 17 e mezzo, 48 e 8 i primi 6. E così al comando Sirio a S li porta tutti a spasso. Due coppie alle sue spalle, Savelle e Suellen, Spino Sakaffa e Sissigio. Poi Simon Ara, 18 e 1 addirittura questo paletto, poco meno di 1,7 e il mezzo miglio iniziale. Si è andati veramente piano. Sirio S e Suellen in linea dopo mille metri in 1,22 e 3, una frazione in 15 e mezzo. I cavalli all'imbocco della curva di destra, non ci sono variazioni. Sempre Sirio S al comando, seguito da Savelle, Suellen a largo, 17 e 1 di conserva, anche la frazione per iniziare l'ultimo giro. 700 metri alla conclusione con Sirio S in vantaggio, accompagnato da Suellen. Poi Sissigio che sposta in terza, Savelle sempre per le vie brevi quando si va a 600 dal palo, 16 e 8 questo parziale. Sirio a S, Suellen e Sissigio in diagonale, Savelle per buchi così come Spino Sakaffa a largo Simon Ara. In bocco della piegata conclusiva, 14 e 2, 2, 10 e mezzo ai mille 6 e Sirio a S accelera. Sissigio in terza ruota, 3 e 2 ancora in vita, Suellen, Savelle senza spazio, Sissigio che insiste ulteriormente, Sirio a S che deve ripartire. Sirio al comando, Sissigio attacca, poi Savelle su Ellen, Sissigio che ci prova, di dentro Sirio a S che si riprende, Sirio a S sul palo. Mantiene qualcosa di margine probabilmente nei confronti di Sissigio. Al terzo posto termina Suellen, 29 e 3, la chiusa, 2 e 40, il totale 1 e 20. La media al chilometro, andiamo a rivedere le battute conclusive con Sirio a S che mantiene la meglio. Sissigio è seconda, al terzo Suellen, 4, 2, 1, l'arrivo ufficioso della sesta corsa, Sirio a S con Giuseppe De Filippis, 2, 55. Al totalizzatore il training di Rocco Spagnolo, i colori della signora Stella Briganti.